E' un Alessandro Petruccelli sorridente e pieno di motivazioni quello che si presenta in conferenza stampa in occasione dell'appuntamento settimanale mercoledì con la Fidelis. Centrocampista classe 99, piedi buoni per giocare tra le linee e tanta voglia di dare una mano importante alla causa bianca-azzurra in Serie D. Alessandro si racconta così dalle emozioni nel vestire la maglia e le sue caratteristiche principali. La Fidelis è una grande piazza e quindi sono onorato di indossare questa maglia. Ho portato maglie dello stesso carico e quindi sono contento e motivato nel far bene. La tua collocazione al centrocampo in maniera specifica qual è? E' diciamo più interno di centrocampo, mezz'ala nel centrocampo a tre, però mi trovo bene anche a due o se no quarto di centrocampo. Negli schemi di Mister Potenza come ti trovi? Benissimo, ci fa giocare palla a terra, esprimo meglio il mio gioco nel giocare la palla a terra. Hai anche giocato contro il Taranto e Pomigliano domenica scorsa, quale delle due preferisci come prestazione tua personale? Taranto, perché era una partita importante, la piazza ci teneva, dovevamo dimostrare di che passa siamo fatti e l'abbiamo fatto, quindi Taranto. Petruccelli è oggi più che mai una pedina fondamentale per il centrocampo di Mister Potenza, vista anche l'assenza del capitano Iannini. Caetano segue a tutti come davvero capitano, sì ha un senso di responsabilità ma mi può fare solo che piacere guardando la carriera che ha fatto Caetano. Infine Alessandro fissa il proprio obiettivo stagionale sia a livello individuale che di squadra. Di dare il mio contributo al 100% e noi sempre il nostro obiettivo è la salvezza, ovvio domenica per domenica se continuiamo a fare così ci possiamo levare grandi soddisfazioni, siamo un gruppo giovane, tutti ci stiamo mettendo in gioco e quindi va tutto a merito nostro.